Veneto premiato nell'ambito del turismo italiano. La regione risulta la più amata dagli stranieri nell'anno 2019. Il premio Italia Destinazione Digitale è stato conferito nell'ambito della manifestazione fieristica TTG Travel Experience di Rimini. Terra italiana è in grado di offrire in pochi chilometri di distanza di paesaggi completamente differenti. I monti, il mare, i laghi, le città d'arte, i parchi naturali, le città murate, il delta del Po, lo charme di centinaia di piccoli borghi, ognuno dei quali può essere uno scrigno prezioso di emozioni. Il tutto accompagnato da un'altra grande perla veneta, che sono le produzioni agricole e la loro qualità, con l'infinita gamma di proposte dell'enogastronomia e con oltre 350 prodotti tipici. Secondo il presidente della regione, si tratta di un mix d'oro che con la storia e la cultura ha fatto e farà crescere il Veneto turistico. Luca Zaia si è detto orgoglioso di questo primato e desidera dedicare il premio agli imprenditori, operatori e lavoratori del turismo. Se questa terra veneta è la più amata dai turisti di tutto il mondo, lo si deve a persone lungimiranti, che fin dal dopoguerra, ha detto il presidente Veneto, sono andati in giro per il globo a promuovere il Veneto, che usciva dalla povertà e conosceva l'emigrazione. Abbiamo avuto e abbiamo grandi imprenditori, che hanno cominciato senza internet a viaggiare con la valigia di cartone, con dentro le bellezze della loro terra, che hanno creduto nei fenomeni turistici, ancora prima che iniziassero con la globalizzazione. Grandi uomini, che hanno mantenuto nel sangue lo spirito di Marco Polo e della Repubblica Veneta. Da qui e dalla modernità e capacità degli attuali imprenditori è nato un fenomeno da 70 milioni di presenze l'anno, è nata la prima economia del Veneto.